Ah, eccomi. Vogliamo cominciare? Dunque, sei ansioso di incontrare il tuo creatore? Ho altri appuntamenti. Li mancherai, purtroppo. Farò del mio meglio per essere in orario. I miei padrini. Tu. Ti batti con questa canaglia? I miei appuntamenti. All'una, alle due. Da quanto tempo sei a Parigi? Sono arrivato questa mattina. Non hai perso tempo. La pazienza non è una delle mie virtù, signori. Neanche le buone maniere. Aspettate il vostro turno, vecchio. Che cosa vuoi che ci metta sulla tua lapide? Sterco? D'Artagnan. D'Artagnan. Io sono Athos, loro sono Portos e Aramis. I tre moschettieri. Ho sentito parlare di voi. Da mio padre. Anche lui era moschettiere. Veramente sono venuto a Parigi per essere uno di voi. Temo che tu sia un po' in ritardo. Cos'è successo? Oh, una missione fallita. Taglia i fondi. Il cardinale, il progresso. Scegli pure. Or dunque, benvenuto a Parigi. Peccato che dovremmo ucciderti. Se non posso diventare moschettiere, mi batterò con uno di loro. O con tre. Uccidilo, avanti. È ora di pranzo, muoio di fame. Oh, giussac. Bene, bene, bene. Come sono caduti in basso i potenti. Un duello a dispetto degli editti? Non derubate più gli ambulanti per poche monete? Ora, consegnate le armi e venite insieme a noi. A meno che naturalmente non preferiate opporre resistenza. Nuovo piano. Uccidiamo il ragazzo. Loro li riduciamo in portiglia e poi andiamo a mangiare. Ci vuole un po' di esercizi. Stavate dicendo? D'altro canto, il buonsenso è la parte migliore del valore. Ma siete i moschettieri? Sbagliato. Eravamo i moschettieri. Ora siamo soltanto... noi. Avete dentro! Vente! Vente! Rochefort! Andiamo! Andiamo! Fate lì fuori. Avanti! Marche! Bilanciamo le forze. Vente! Vente! Mi piace lo spettacolo? Voi! Attento! Non avete risposto alla mia domanda? Siete sempre così impudente, voi? Solo i martedì. E ogni volta che ci sono delle belle donne. Maledetto! Stiamo cercando di fare due chiacchiere! Come vi chiamate? Costanza. Costanza. È un nome che indica lealtà. Una qualità che non mi sembra vi appartenga. Mi permetto di sentire. In fondo al cuore sono un inguaribile romantico. Ne volete ancora? Ne volete ancora? Vostre piedi! Vostre piedi! Avevo dimenticato l'effetto che fa. Sì, anche noi. Mi chiamo D'Artagnan. Dovete venire da un paese molto piccolo. Come fate a saperlo? Frasi come le vostre forse possono andare bene lì, ma qui siamo a Parigi. Vi consiglio di innamorarvi della vostra spada, a pungere con eleganza voi, signore. Siete disarmato. Ha ragione, ragazza. Le signore di Parigi sono infinitamente più complesse, hanno migliaia di modi di dire no e solo alcuni di questi vogliono dire sì. È spiacente di rovinare l'atmosfera, ma torneranno. A meno che non vogliate battervi con un intero esercito. Altrove. Grazie a tutti. Grazie a tutti